e veniamo subito a quanto accaduto oggi a uomini e donne 3 dicembre 2014 della puntata del trono classico oggi si è cominciato subito con i ragazzi e in particolare da andrea cerioli andrea cerioli nei guai con la napoletana sharon bergonzi la rabbia di sharon bergonzi a uomini e donne oggi andrea è andato a trovare le sue corteggiatrici in particolare due volte valentina rapisarda la seconda in albergo e alla fine c'è scappato un bacio poco più che a stampo con valeria con la quale ha fatto un'esterna eccessivamente ormonale speriamo che questa ragazza sappia offrirci qualcosa di più perché al momento altro di lei non posso raccontarvi se non le dimensioni delle sue misure ed è andato a trovare a formico la sharon bergonzi e lì ha fatto la conoscenza della madre che si è augurata che lui e la figlia litigassero di meno effettivamente al momento questo rapporto fra andrea cerioli e sharon bergonzi si sta caratterizzando veramente più che altro per la sua conflittuosità io credo che dopo avere fatto conoscere la madre a andrea sharon si aspettasse da lui un comportamento diverso che non c'è stato e questo ha causato il suo abbandono dallo studio in lacrime maria de filippi invece ha letto il tutto come una volontà di sharon bergonzi di volere essere troppo perfettina di volere piacere a tutti e quindi di avere queste reazioni esagerate ed in parte ha sostenuto che si faccia in questo troppo condizionare dal pubblico che l'ha presa in simpatia e che quindi si aspetta da lei determinate cose ovviamente tina e gianni sono andati dietro alla conduttrice credo più che altro per antipatia personale nei confronti della napoletana io personalmente non la conosco e quindi l'unica impressione che mi posso fare è quella che ho da video ma la sensazione e la ribadisco è che lei a questo punto della conoscenza si aspettasse da andrea cerioli molto ma molto di più questo non c'è stato lei non sa più come prenderlo e quando vede che lui si bacia con le altre scleri perché veramente è talmente presa che non riesce a trovare altra soluzione se non quella di scappare da quello studio impressione mia ovviamente cmq al di là di tutto oggi sharon mia veramente commossa povera cucciola specialmente quando diceva ad andrea per piacere mandami a casa per piacere te lo giuro mi fai stare solo male oggi andrea non l'ho visto così preso di lei come l'altra puntata non lo so spero solo che se ha cambiato idea non la tenga in studio solo perché è amata dal pubblico perché le farebbe veramente del male e non se lo merita in ogni modo fino a quando non verrà registrata una nuova puntata non è dato sapere se sharon bergonzi farà o meno ritorno a uomini e donne yonas verami indeciso fra noemi e ramalaila piange per l'arrivo della madre a sorpresa il bacio a uomini e donne fra ramalaila giustini e yonas verami passiamo poi al trono di yonas verami che oggi ha ricevuto la visita della madre ballerina spagnola ed il tronista ha pianto tantissimo dall'emozione confidando che lui ci tiene veramente tantissimo mi piacerebbe dirvi che ballo hanno raccontato ma sinceramente non sono così esperta di balli spagnoli sicuramente non era il flamengo oggi yonas verami è andato a trovare a casa sia noemi piarulli e sia ramalaila giustini e le ha baciate entrambe oggi in studio si è anche aperta tutta una discussione su quale delle due avesse baciato lui e da quale delle due avesse baciato per prima lui ma la sensazione forte è stata che per la prima volta ho visto meglio yonas verami con noemi piarulli c'era sicuramente più complicità in quell'esterna e quando noemi piarulli in studio si è arrabbiata lui era tutto preoccupato di dare delle spiegazioni a lei a dimostrazione di un interesse crescente non lo so stiamo a vedere sia noemi che ramalaila mi sembrano già molto prese lui mi sembra che invece al momento abbia solo una preferenza per noemi il suo trono potrebbe essere ancora molto lungo comincio a credere ps molto bello il gesto della mamma di yonas verami che ha preso sharon vergonzi e l'ha aiutata a sedere abbracciandola come una madre mentre la napoletana stava piangendo iscriviti al nostro canale a cura di QTSS a cura di QTSS a cura di QTSS